Ciao a tutti e benvenuti in quest'altro gameplay del Light Echronos di Assassin's Creed 2 per Playstation 3 Ovviamente, vai sulla gondola a prendere i soldi, vai sulla gondola! No, perché i soldi sono la cosa più importante I soldi non sono tutto, ti fanno avere tutto 688 nello scrigno di Monte di Gioni, che schifo Cioè, noi l'abbiamo già restaurata tutta in realtà Perciò siamo arretrati, amici Infatti penso che quest'ultima volta ci dedicheremo un po' di più Ci dedicheremo un po' di più a Assassin's Creed E poi, forse, non lo so, potresti che metteremo contemporaneamente Uncharted, Dante's Inferno e Assassin's Creed Bellissimo Dante's Inferno, ragazzi, l'avete visto, no? Perché abbiamo messo le prime due parti E poi continuiamo a mettere, ovviamente Non vi lasceremo, col dubbio Bellissimo gioco, Dante's Inferno Vi consiglio proprio di comprarlo Oh, cazzo Vi consiglio di comprarlo In attesa del grandissimo God of War 3 Che, cioè, è il gioco che tutti attendono Il gioco più atteso da tutti Anche il nostro professore di scienze dice che Il nostro professore di biologia Chimica e biologia dice che ha giocato Cioè, ha giocato a God of War 1 e 2 Però non può E che è il nostro sterrifatto Però non può prendersi il 3 Perché non ha PlayStation 3 Ah ah Dai, vai a fare la missione Non perdiamo tempo Che noi siamo arretrati con Assassin's Creed Dobbiamo andare Che culo Oh, che parli Sei abituato quando salti direttamente Ah, già Perché abbiamo sbloccato il salto Il super salto Allora Andiamo Dirigiamoci Alla version Alla mission Voglio dire No, no 3 ore e 44 Wow Che ci conviene andare a fare prima la tomba Ah, la mission Andiamo a fare la missione ragazzi E dove le facciamo Lupi Oh Lupi travestiti da Agnelli Impedisce i congiurati di attaccare la famiglia Medici Ah, bellissima questa missione Mi piace davvero assai Prendi pure il coso Giusto per farlo più figo Togli Oh, devo vedere Qua in mezzo Qui sta Ah, qui attaccano Lorenzo dei Medici Sì, attaccano Lorenzo il Magnifico Cazzo Anche nei lineaggi l'ho fatto dire Ah, sì Nel lineage Non lineaggi Lineage Perché sei bella linea Delle tappe Il sangue è fatto un po' irrealmente qui dentro Cioè questo viene pugnato dappertutto Ma alla fine lo stesso non muore No, il nome di Dio Mi scongiuro Pietà Nessuna pietà Ah, non lo hai detto Muori Quello è il fratello Muori Vedere è stato Vedete Ecco Ecco Prima ad uccidere L'ho uccidere io Lorenzo dei Medici E' uno E' due Quindi indoccabile Non ti può fare Anche perché già l'ho avuto Ah, sì Vedi di uccidere anche quelli che combattono con te E poi dovresti attaccare Anche se attacchi il pazzo Il capo dei pazzi Se ne vanno prima Allora ci diamo a struttura Non lo puoi uccidere Però Stanno attaccando Lorenzo Forza, forza Vai da Lorenzo Che sta morendo A te Vedi di attaccarlo Lorenzo Sì Adesso vai da questo qui A di uno Non lo Vai So Bello Questa come viene Vai da quello lì Il soldato Eccolo Vai da quello Che sta attaccando Lorenzo Non ti pensa a questo E cazzo No Ma non è fanca Ma vaffanculo Questa se ne scappò Ma questa non è scena Ci voleva tanto Cioè è morto Lorenzo E siamo morti noi Cioè stiamo per morire Penso che Grazie Probiamoci la spada Che quella Secondo ne va resano Lo dobbiamo portare a casa sua Forza Forza Accompagnalo E non attaccare nessuno Sto perdendo molto sangue Io inizio a correre Perde molto sangue Ma riesce a correre Sì Sì Aiutali Aiutali Non aiutare nessuno Sì Ci saranno i conoscenti Poi Uccide questo Sì Eh Ma non così Con le lame Guarda Da quanta gente ci sta qua Noi non ce ne freghiamo di nessuno E l'ora Sta un corso davanti Eccolo Ho visto Dove sta Andiamo 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 E' più bello Giderli Vaffanculo Ecco Guarda la guarda Bella vergine beata Bella vergine beata Stronco Aspetta Ti sono debitori Ah Dacci i soldi Pagaci Paga il tuo debito Profumatamente Altrimenti Non sarà mai sanato Il figlio di Giovanni Sì Il figlio di Giovanni Giovanni Chissà perché siamo tutti Giovanni Mai Raffelino Siamo saltando il palazzo Della signoria Non riuscirei male Spingerti a lungo Ah Chi ci vuole L'assassino Quindi E infatti Andai a fangulo Vai a cagare Io devo andare A cagare In bagno Comunque Uccidilo Uccidilo Wow Wow Andiamoci 3000 Ah Belli I soldi I soldi E qui c'è anche un glifo Ragazzi Che lo faremo nel prossimo video Forse Se non Se non abbiamo la cazzimma Ve lo facciamo vedere Allora Quindi grazie per averci seguito Ci vediamo Alla prossima Allora 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 Grazie a tutti.